L'unico tuo maestro sei tu. E quando Elisa ti domanderà cosa ci facevi a pranzo con quella donna dall'aria buffa, che cosa le risponderai? Non direi mai che Mariselle è buffa, ma che è bella. Questo fu l'inizio del mio amore per Mariselle, che vidi altre volte incontrandola di nascosto. Non ne potevo fare a meno. Non sapevo che cosa lei pensasse di me. Non sapevo che cosa raccontasse alla sua famiglia. Il mio atteggiamento nei suoi confronti non cambiò in alcun modo. Io non facevo altro che amarla. Quando la baciavo era su una guancia brevemente. Tra noi non ci fu nessun altro contatto fisico. Sapevo soltanto che quando ero con Mariselle il senso di perenne insoddisfazione che mi angustiava scompariva. Le parlavo dell'insegnamento dei maestri immateriali e lei ascoltava con un senso di meraviglia che si andava trasformando in adorazione. Certamente il mio sentimento d'amore era motivato dal fatto che Mariselle mi considerava un maestro e feci molta fatica quando mi sentì in dovere di dirle. Mariselle, se tu mi consideri un maestro perché ti parlo dell'insegnamento dei maestri immateriali, mi dispiace dirtelo, ma non hai capito niente dell'insegnamento. Ma perché, mi chiese Mariselle delusa, perché l'unico tuo maestro sei tu?